E proseguiamo con l'eccellenza dell'anno Cyber Insurance. The winner is IG Europe. Per essere leader nel mercato delle assicurazioni cyber e per aver creato un modello di gestione e prevenzione dei rischi informatici che abbina alla copertura assicurativa tradizionale la fornitura di servizi di consulenza professionale a salvaguardia della business continuity aziendale. Io saluto in collegamento Marco Vantellino IG Profit Center Manager Financial Lines. Buon pomeriggio, buonasera. Buon pomeriggio. E saluto anche Marco Dallevacche, General Manager Italia e Paesi Mediterranei. Grazie anche a lei per essere con noi. Buonasera. Buonasera. Allora Vantellino, parto da lei per un commento a caldo. Soprattutto l'importanza di un premio in un momento come questo. Un premio che riguarda naturalmente l'ambito assicurativo. Sì, direi che è un premio che è meritato. Direi grazie. Devo dire grazie a tutto il team perché si è impegnato davvero mondo molto in un contesto che è dinamico. Siamo riusciti direi a creare un prodotto modulare, un prodotto smart che per una volta non va a essere solo un prodotto assicurativo ma appunto va a permettere anche una formazione da dei servizi di pronto intervento e aiuta le aziende anche a monitorare quella che è la loro postura di sicurezza e monitorarla nel tempo. Certo. Sì, bisogna essere pronti ad affrontare il business in qualunque ambito possibile e modalità e anche appunto il fatto di poter andare a utilizzare degli strumenti differenti proprio e quindi usare un pc per una quotidianità da un lato che il rischio assicurativo è dietro l'angolo e cambia davvero spesso e dall'altro quanto la tecnologia può proprio aiutare una continuità aziendale. Certo, esatto, per riprendere alcune delle parole della motivazione che ha accompagnato questo premio D'Aleva che chiede un commento anche a lei. Sì, buonasera a tutti e ringrazio anch'io di questo premio prestigioso e anche dell'opportunità del collegamento in modalità virtuale. AIG, la compagnia che rappresento, American International Group, è leader in Italia in particolare in un settore che è quello del Financial Line, che è la copertura per gli RC amministratori, le cosiddette D&O, RC professionale e la Cyber. E questo premio ci fa molto piacere perché la Cyber è un po' il simbolo, proprio come diceva Marco, della nostra capacità di innovare, perché la Cyber è veramente una copertura al passo con i tempi moderni. Oggi tutti noi utilizziamo computer, tablet, i nostri smartphone per trasferire e postare dati e abbiamo una vera e propria identità digitale. La Polizia Cyber risponde un po' a questo cambio di paradigma nel modo in cui viviamo i tempi moderni. Vale anche per le aziende, perché le aziende come le banche, con l'on banking, i rapporti digitali o la pubblica amministrazione gestiscono tantissimi dati che sono diventati oggetto anche di attenzione da parte della criminalità per un uso illecito degli stessi. La Polizia Cyber è una cosa nuova che risponde proprio a questo cambio di modalità del modo in cui lavoriamo, del modo in cui viviamo, cercando di dare una protezione a una risposta da parte del mondo assicurativo. Esatto, in un momento peraltro nel quale inevitabilmente il tema innovazione e tecnologia è sempre più battuto, quindi ancora più importante. Quindi grazie a Marco Vantellino, IG Profit Center Manager Financial Lines e grazie a Marco D'Alevac e General Manager Italia e Paesi Mediterranei. Complimenti naturalmente a tutto il team per il premio. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie e arrivederci. Grazie a voi, buona serata e a presto.